E' curioso che, come al solito, c'è sempre l'eterogenesi degli eventi, come diceva la Bate Rosmini, si aspetta una certa cosa, ci si prepara su una certa falsariga, poi arriva qualche cosa, che qualche volta è anche una parola buttata là e ti butta all'aria tutto il castello di carte che ti hai ripreparato, il solitario, giustamente perché a un certo punto fare il solitario come preparazione dove poi parlare in un certo modo in pubblico e quindi fare un colloquio, o impostare comunque un colloquio, è una contraddizione in termini. Proprio le ultime cose che sono state dette adesso a proposito di Dionigi e di Lucrezio. Lucrezio è stato un personaggio studiato molto bene e anche analizzato in un romanzo, romanzo di cui non ricordo più nemmeno troppo bene il titolo, ma è facile recuperarlo perché il suo autore era un curioso tipo di professore liceale che io ho avuto come mio professore di greco quando capitai un po' per caso all'abadia fiesolana, quindi il secondo liceo dei padri scolopi tenuto a Firenze che in realtà poi collaborava molto con la scuola gesuitica, la villa Sant'Ignazio, ma i gesuiti a Firenze non hanno una scuola. Io ero finito lì perché alla fine ho fatto un iter liceale da personaggio piuttosto discolo perché ero un sessantottino stranamente in precedenza dei tempi, non stavo al gioco, contestavo, creavo, ero anche un bravo ragazzo, anche molto rispettoso, però insomma mettevo in difficoltà i miei insegnanti e allora fui ripetutamente, anzi non ripetutamente, una volta solo allontanato dal liceo classico Galilei e finì poi a fare un liceo privato, un bellissimo posto sull'apprendici della collina fiesolana tenuto dai padri scolopi e lì, quello fu il mio, la mia via di Damasco perché a me piaceva, piaceva, ero figlio operai e avevo imparato dal mio padre amare la musica, amare l'arte, mio padre mi portava a pescare, non mi piaceva pescare, gli liberavo i pesci perché tifavo sempre per i pesci, anche se non posso mangiare pesce perché il destino cinico e baro ha voluto e mi manchino un paio di enzimi per digerirli e quindi a me piacerebbero ma io non piaccio a loro. A mio padre piaceva il calcio. Per dirvi, ora mi sono ritreduto, ma fino a che punto io, un ragazzino superbo perché avevo letto tre libri e come tutti i ragazzini hanno letto tre libri, sono convinti di avere in mano il mondo insomma e allora io dicevo a mio padre, che era grande tifoso della Fiorentina e tifoso all'antica, di quelli che applaudivano anche gli avversari quando gli avversari erano bravi e quindi mi ha insegnato anche questo tipo di realtà che io apprezzavo già molto, però una partita di calcio, oggi mi piacciono abbastanza, non ci vanno matto ma comunque allora proprio le detestavo e facevo del male a mio padre il quale avrebbe voluto portarmi con lui la partita la domenica. La cosa più tenera che gli dissi, bisogna che ve la dico in Fiorentino perché altrimenti perde smalto, è che a me le partite di calcio mi farevano 22 bischeri in motande dietro a un pallone e questa cosa mio padre non me l'ha mai perdonata, insomma lui mi parlava di metodo, di sistema, mi mostrava le geometrie del giocare, insomma la filosofia del giocare a pallone, queste cose proprio, perché poi ci si trovava sulla musica, soprattutto sulla musica classica, anche se lui era un vetroveniano e io ero piuttosto muzartiano, wagneriano, cucciniano, quindi anche quello gli facevo un po' di fronda, ma quello che mi mise a posto, perché era un ragazzino voracissimo, leggevo di tutto, imparavo, avevo una buona memoria, andavo anche bene alla scuola, mi beccavo dei quattro in condotta, i quattro come sapete, qui ci sono molti colleghi insegnanti, quindi soprattutto i non più giovani lo sanno, quattro in condotta non si dava a nessuno, il peggior teppista della vecchia scuola poteva prendere sei ed era già al limite della criminalità comune, quattro vuol dire è una sociale, e io ero una sociale, e fui cacciato, fui cacciato, fui semplicemente rimandato a ottobre in più di tre materie, all'epoca più di tre materie non si poteva andare a ottobre, si doveva ripetere l'anno, e io non volevo ripetere l'anno perché mi sentivo vittima di un'ingiustizia, e allora mio padre mi disse, soldi in casa non ce ne sono, se riesci a fare l'anno da solo, due anni in uno da solo, ti sia buona la prima e la seconda, ti mando in terza, si consigliò, gli dissero vabbè prendi una scuola privata, scelse, su indicazione anche del nostro parroco, scelse i padri scolopi, che erano abbastanza di manica larga perché si trattava di prendere dei clienti, però non troppo, quindi i clienti li volevano anche buoni come dicevano loro, e quella cosa a me è andata benissimo perché mi sono imbattuto in un gran cesenate, il professore Alieto Pieri, io allora ero un ragazzino di 18 anni, lui era un ragazzo di 26, aveva vissuto facendo il prefetto nelle scuole, cioè il guardiano, il ripetitore, nei convitti privati, perché anche lui non aveva un becco di un quattrino, e stava diventando un grandissimo grecista, ha sempre snobbato l'università, gli avevano offerto assistentati su piatti d'argento, lui ha voluto rimanere professore di liceo, poi naturalmente non ci è rimasto professore di liceo perché prima l'hanno mandato a dirigere l'Istituto Italiano di Cultura ad Atene e poi addirittura quello di Parigi, morto, precocemente morto, si può dire che è morto precocemente un settantenne, 20 o 30 anni fa uno che moriva a 70 anni non moriva precocemente, morto una delle malattie che lo levò di torno in due o tre mesi, ecco lui mi ha veramente, mi ha fatto capire delle cose e dopodiché mi è successo qualcosa dentro e io ho deciso che lo studiare era il mio destino, il mio DNA. Bene, Alieto Piedi, ora mi fa piacere ricordarmi Alieto Piedi perché era un cesenate, beh Cesena non è vicinissima a qui ma poco ci manca, e anche perché ha scritto un bellissimo libro su Lucrezio, di cui non ricordo il titolo, ma siccome è l'unico romanzo che lui abbiamo mai scritto in vita sua è abbastanza facile, basta cliccare un po' Alieto Piedi, romanzo su Lucrezio e viene fuori questo romanzo. Ecco, non ti parlerò degli dèi, è un colloquio amoroso di Lucrezio con il suo amore, amore femminile, bisogna specificarlo di questi tempi quando si parla dell'antica Roma, è anche giusto perché l'amore è fatto di tante cose, è multiforme. Non ti parlerò degli dèi, quindi, ma ti parlerò dell'ordine naturale, in fondo ecco io credo, non so se Dionici ha mai letto il libro di Alieto Piedi ma quando lo vedo glielo consiglierò perché probabilmente gli interesserebbe. Bisogna cominciare da qui. Con Pieri e Olessi De Baccanti di Orifide, in terza, bisognava portare una tragedia completa e lui non ci aveva portato molto rispetto, soprattutto a me che era un ex privatista, ci fece prendere la più infame dal punto di vista filologico di tutte le tragedie di Euripide, Euripide non è schilo, Euripide è uno saccio duro, insomma. E io mi ricordo che questa lettura, questa fatica di traduzione, rendere la traduzione, ecco, Pieri insisteva, tradurre non vuol dire, diceva quello che poi ha detto, magari meglio di lui o perlomeno in un linguaggio più efficace, molti anni dopo Umberto Eco. Tradurre vuol dire dire quasi la stessa cosa, perché la stessa cosa non si dice mai, perché ogni lingua ha le sue regole intime che non sono soltanto la grammatica, la sintassi, la lessicografia o altre cose. C'è uno spirito che non si può rendere, insomma. Anche nelle lingue più vicine a noi, dire io non sono per nulla contento e dire in Genesui tuttaffè satisfe, non vuol dire mica la stessa cosa, sono delle belle differenze. Queste cose mi facevano molto riflettere, perché appunto con le baccanti di Euripide io ho conosciuto fra l'altro una cosa che poi mi ha sempre molto interessato, il conflitto fra Oriente e Occidente. In questo Occidente Nietzsche, di cui ero un grande estimatore dal ragazzo e Pieri mi prendeva un po' in giro per quello, Nietzsche ha parlato molto bene della contrapposizione fra spirito apollineo e spirito dionisiaco nella cultura greca e nella tradizione greca e ha parlato anche molto bene, ma anche molto tendenziosamente naturalmente, del fatto che mentre Apollo è la personificazione della spiritualità solare occidentale, Dioniso invece è un'altra cosa. Dioniso è una divinità largamente femminea, le baccanti, viene dall'India. Venire dall'India cosa vuol dire? E cosa vuol dire venire dall'India? ce l'ha spiegato bene il padre Danielu, il cardinal Danielu, grandissimo filologo, che ha scritto proprio un libro intitolato Shiva e Dioniso, dimostrando come la cultura dionisiaca abbia delle radici profondissime nello shivaismo. E quindi in realtà la cultura dionisiaca sia un tipico portato di quella migrazione dei culti, dei miti, eccetera, da qui sono nate tante cose, l'idea del viaggio oltremondano, l'idea della cultura eroica o come diciamo noi occidentali, semplificando un po' cavalleresca, tutte cose che noi possiamo seguire e che hanno nella storia, nella filologia e nell'etnologia, o se preferite proprio nell'antropologia, un ductus, un iter, che è molto simile a quello delle vicende della specie umana, la migrazione dei popoli, che come le epidemie, come tutta una quantità di cose, vengono da oriente e vanno verso l'occidente, quasi seguendo il corso, in un certo senso seguendo o ponendosi al senso in cui la sfera del mondo gira rispetto al sole e via discorrendo. Sono cose su cui abbiamo riflettuto, abbiamo riflettuto molte volte, nell'antichità, nel medioevo, nel rinascimento, nell'illuminismo, nel romanticismo, nell'età contemporanea. Da principio, mentre appunto mi veniva fatta questa eccessivamente benevola presentazione, si è parlato del credo qui absurdum, la possibilità che l'Europa rinasca come tale e poi rinasca. Ma è già nata? È già nata? C'è stata qualche volta in cui l'Europa si è trovata unita? Comunque, l'impossibile rinascita dell'Europa. Il credo qui absurdum, credo nell'Italia e nella sua impossibile rinascita, che è un verso che io ho parafrasato sostituendo la parola Italia con la parola Europa, è un verso dei Cantos di Ezra Pound, che come sapete era un grande nichilista. E il credo qui absurdum lo prendeva proprio da un altro grande nichilista, questo che era un nichilista del X-XI secolo, che era in Sant'Anselmo d'Aosta. Credo perché quello che il dogma mi propone è assurdo. Proprio la grande rivoluzione cristiana buttata in faccia alla chiesa cristiana stessa. Hai voluto ereditare la tradizione ebraica e ti sei messo immediatamente contro la tradizione ebraica. A me mi fanno ridere questi che parlano della nostra cultura dicendo la nostra cultura ebraico cristiana. Cosa vogliono dire? Che il cristianesimo viene fuori dall'ebraismo? È certo che il cristianesimo viene fuori dall'ebraismo. Allora mettiamoci anche l'Islam, che viene fuori da tutte e due, dall'ebraismo e dal cristianesimo. Perché se di cultura ebraico cristiana si vuol parlare dicendo ma i cristiani leggevano la Bibbia. Eh sì, ma non mancavano mai quando la commentavano la Bibbia, perché la Bibbia la si è imparata a commentare da prima di San Paolo. A un certo punto poi l'Agostiniano Lutero che di interpretazioni ne aveva fin sopra i capelli perché gli avevano rovinato l'infanzia e l'adolescenza ha sbottato e ha detto ma insomma fate piazza pulita nella vostra miserabile cultura e state a ascoltare una buona volta la parola di Dio invece di stare sempre a chiusarla. Infatti nelle Bibbie protestanti non c'è una annotazione, è il fedele che deve annotare. Io da buon cattolico e da buon professore non ridisco davanti all'idea di quello che il fedele può tirar fuori dal libro dei salmi o dalle ecclesiaste. Eh ma tant'è. La rivoluzione protestante si è fatta su questa base. Il fedele che si reimpadronisce della parola di Dio seguendo anche un pochino un esempio musulmano. Infatti i cattolici parlavano di turcico luteranismus dimenticandosi che i musulmani a differenza di alcuni protestanti, nemmeno tutti perché la chiesa luterana poi è molto cauta in questa faccenda del libero esame e delle scritture, ma l'islam non ce l'ha il libero esame e le scritture. Il fedele legge il Corano e lo impara a memoria, però quando vuol sapere che cosa il Corano significa lo chiede al suo imam, lo chiede al suo mullah, lo chiede cioè non a un prete perché l'islam non ha sacerdoti ma a un sapiente, a un dottore della legge, il mullah o l'imam non sono preti, sono rabbini praticamente, fanno una cosa molto simile, ma è molto importante questo fatto che non c'è un'interpretazione individuale ma c'è piuttosto un'interpretazione di gruppo. Ecco, questa faccenda del gruppo è importante e del gruppo strutturato è importante. Vi ricordate cosa diceva il vecchio Ugo Foscolo, dal dì che nozze, tribunali, l'etare, fece, l'umana, l'umana stirpe, eccetera, eccetera, le istituzioni matrimoniali, le istituzioni in generale giuridiche, quindi il tribunale, la costruzione delle leggi e gli altari, quindi il rispetto per quello che non si vede, ma si sente che esiste intorno a noi e sopra noi e il rispetto di quello che non si vede più perché sono coloro che ci hanno preceduti e che in qualche modo continuano a vivere. Questo crea la civiltà. Cosa vuol dire essere civili? Lasciamo perdere interpretazioni volgari che si danno oggi, alcuni sono incivili, altri sono incivili. Civis vuol dire essere un singolo che sa stare con gli altri e che può stare con gli altri, che deve stare con gli altri. E questo suo essere, suo potere e suo sapere gli viene dalle leggi, gli viene da norme che vengono dall'interiorità ma che poi sono confrontate. Se poi il confronto avviene solo quando c'è una scintilla divina che lo permette, come diceva il vecchio de Mestre nelle sue rete di San Peterburgo, oppure quando c'è il contratto sociale, come diceva Rousseau, va bene, queste sono posizioni che sono così inconciliabili che ciascuno di voi deve scegliere da che parte stare. O di non stare da nessuna delle due parti, ma non stare da nessuna delle due parti solitamente non vuol mai dire stare assolutamente in una posizione di regale e equità. Non stare a nessuna delle due parti vuol dire protendere più dall'una che dall'altra e cercare di amministrare questa indecisione. Ma in fondo le due parti continuano a tirarci in due posizioni opposte. In fondo, cosa diceva Hegel? Commentando. Lo faceva da tedesco, quindi sicuramente non senza una punta di malignità ne ho affronti alla rivoluzione francese, però lo faceva anche da grande filosofo, diceva, beh, fratellanza, uguaglianza, libertà. Fratellanza, uguaglianza. Splendido, splendido programma. Lasciamo fare la fratellanza. La fratellanza deve nascere dall'intimità di ciascuno di noi. Deve essere un valore di libertà. Ti devi sentire fratello anche di colui che fratello non ti sente. È una bellissima pagina di Hegel in cui lui osserva come l'uomo moderno deve respingere come antimoderno per eccellenza il concetto di vendetta. È una pagina che andrebbe fatta leggere a dottor Netanyahu, se non l'ha letta, come non credo che l'abbia letto, ma d'altra parte il concetto di vendetta è un concetto che nel mondo ebraico e nel mondo islamico è perfettamente legittimo. È il mondo non più cristiano, perché noi non siamo più cristiani. Oddio, ciascuno di noi può essere anche cristiano. Io personalmente mi ritengo credente e praticante. Le mie figlie dicono che sono più praticante e credente e forse hanno anche ragione, ma in ogni modo noi siamo sicuramente come società, non siamo una società dimentica del cristianesimo o diventata perfettamente laica, probabilmente non diventeremo mai, ma una società post cristiana forse sì. E io uso il termine post cristiano anche in un'accezione positiva in fondo. si ha voglia di dire sì, vabbè, in fondo non è. Nulla di quello che ci hanno raccontato nella metafisica, nella mistica, eccetera, esiste e se esiste nulla è scientificamente dimostrabile. Anche perché badate, anche qui c'è una bella fregatura, la cultura occidentale è complicata. Noi quando diciamo che è una cosa indimostrabile non vogliamo mica dire che è logicamente inconcepibile. Noi siamo arrivati a un livello di finezza molto diversa dalla grande finezza dei greci, dei romani, degli indiani, dei cinesi, dei persiani, perfino degli amerindi precolombiani, che avevano le loro forme di filosofia o di teologia, di mistica, molto sviluppate. Però c'è un minimo comune denominatore in tutte le civiltà che non sono la civiltà che noi chiamiamo occidentale, quindi l'eredità ebraico-ellenistica più l'elemento proprio del diritto romano passato attraverso l'esperienza dell'impero romano e quindi che ha fatto quei valori, è stata la base di quei valori, noi chiamiamo valori occidentali classici. Tutte le altre culture, meno quella, quando parlano di logica, quando parlano di dialettica e ciascuno nelle loro lingue queste parole, questi concetti li conoscono, alludono ai principi di logica pura che liofilizzati, come è giusto fare, alle 10 di sera suonano in questa maniera. A è uguale a, B è uguale a B, se A è uguale a B e B è uguale a C vuol dire che A è uguale a C. Procedimento che si fonda sui due principi di identità e di non contraddizione. Questa è la logica. Su questo si costruisce anche l'organon di Aristotele, la summa di San Tommaso, il dialogo della ragion pura, la critica della ragion pura di Kant, quindi insomma queste cose sono molto complicate, lo sappiamo. Però c'è un minimo denominatore che il mondo occidentale a un certo punto ha messo da parte, non che l'abbia mai dimenticato, però il mondo occidentale a un certo punto ha fatto un'operazione di grande rivoluzionarietà, costituita da vari elementi, forse qualcun altro se ne metterà in fila, ma da uno soprattutto, che in fondo è quello conclusivo, arriva verso il fondo della metamorfosi della cultura tradizionale europea che alla fine del Medioevo, col Rinascimento, diventa qualche altra cosa e diventa appunto quella cosa che i filosofi con un certo disprezzo dicevano, beh, le cose fatte a modo loro, moderne appunto, modernus viene da modus, e originariamente è un aggettivo molto spregiativo. Ebbene sì, cosa c'è da di così nuovo e così rivoluzionario? Lo leggete e lo capite bene se rileggete una pagina del dialogo dei massimi sistemi di Galileo. Quando Sagredo se la prende con semplicio, tanto per cambiare, non vi preoccupate se avete difficoltà a ritrovarle queste cose, perché io detesto farmi propaganda, ma in una pagina della deriva dell'Occidente questo pezzo l'ho citato in estenso e l'ho citato commentandolo anche alla luce di un mio carissimo amico, che è anche un pochino un interlocutore quasi avversario in quel libro, che è il professor Aldo Schiavone, che è, a differenza di me, un cantore entusiasta dell'Occidente. Io non sono affatto un anti-occidentale, io sono fiero di essere occidentale. Sono occidentale fino alla radice dei capelli. Conosco quel tanto di antropologia culturale, ho viaggiato quel tanto fuori dall'Occidente, ho fatto quel tanto di letture non solo occidentali, che mi permettono anche magari di apprezzare le altre culture più di quanto potrebbe fare un altro, ma non è che... Io mi piango addosso e mi vergogno di essere occidentale, ho le fesserie che stanno dicendo alcuni, eccetera, dicendo che bisogna rinnegare, cancellare tutta la nostra cultura, perché è una cultura di schiavismo, una cultura di violenza, eccetera. Io mi permetto nel mio piccolo, naturalmente, di correggere tutto questo. Lo capisco, questo atteggiamento. Poi è un atteggiamento di molti dei miei allievi e delle mie allieve, ancora oggi. Però ci introduco una variante. Non è che mi vergogni dei miei antenati, anzi, me ne vanto un pochino. Mi stanno anche molto simpatici. Capisco che grazie a loro io ho potuto vestirmi bene, educarmi bene, addirittura nutrirmi bene, fin troppo bene, come dice la mia dietologa, ma tutto questo ha comportato una larga spesa nei confronti degli altri. E io sono stato personalmente innocente, ma sono stato parte di un processo di organizzazione del mondo secondo i principi dell'Occidente e a vantaggio dell'Occidente che ci ha portato anche a una certa forma di spogliazione, della quale io personalmente ringrazio il Dio, perché se io non fossi stato un prodotto di questa spogliazione avrei appartenuto a quei poveri bambini o ragazzi che anche adesso scappano dall'Africa perché non hanno di che mangiare o magari non hanno di che mangiare appunto e non hanno nemmeno i soldi per pagarsi il barcone. Perché è vero che dice guardate che dall'Africa mica scappano i poveracci, scappa la buona borghesia che ha un po' di risparmi da parte da investire nel grande viaggio. Se quella è la buona borghesia vi immaginate cosa sono i poveri insomma. Ora, cosa dice di così rivoluzionario sagreto nei confronti di Simplicius che è il difensore della morale aristotelica, quindi A è uguale a A, se A è uguale a B anche B è uguale a C eccetera eccetera. Gli dice semplicemente una cosa, che per essere veri e le cose non debbono passare al vaglio della ragione, devono passare al vaglio di un'altra cosa, dell'esperienza. Provare e riprovare. La nostra scienza è fondata su questo atto rivoluzionario. La logica pura va benissimo, la insegniamo e la impariamo ancora oggi, ma quello che rende forte la nostra scienza e la nostra coscienza dell'essere nel vero è l'esperienza. Lo diceva bene Margarita Hack quando gli parlavano di Dio. Dio è riproducibile in laboratorio? Se Dio non è riproducibile in laboratorio mi dispiace ma io non ci credo. Perché se una cosa è reale deve essere riproducibile in laboratorio. Naturalmente era anche lei ben cosciente del fatto paradossale di tutto questo. Non si tratta di creare non l'Homunculus ma addirittura il Teonculus. No. Però certamente la cosa ha un suo valore anche perché spiega che c'è l'Occidente. L'Occidente è il valore dell'esperienza, il valore probante dell'esperienza. Ma d'altra parte questo è un discorso che è fatto soprattutto a degli storici. Li fa rabbrividire. è una delle ragioni del mio amichevole litigio anche con il mio amico Addo Schiavone. Ma lo sappiamo? Quante migliaia di povere donne sono andate sul rogo? Perché? Non perché c'erano dei teologi fanatici che dimostravano alla luce di Aristotile che loro erano giaciute col demonio. No, no. Ah, perché c'era un sacco di brava gente in buona fede che andava a testimoniare di averle viste volare di notte. Non andavano a testimoniare che loro alla luce di Aristotile o di Santo Maso avevano scoperto che quella lì era un'adoratrice del demonio. Ma che? Dicevano ma l'ho visto io. Esattamente come la mia povera nonna quando voleva dire per sederci di qualche cosa, con una frase che oggi farebbe ridere, diceva come non è vero? L'ho letto sul giornale. Trent'anni fa dicevamo è vero, l'ho visto in televisione. Oggi noi sappiamo abbastanza di realtà virtuale, di trucchi della virtualità, per cui anche il giorno che ci faranno vedere le teste dei poveri bambini israeliani, decapitati dai palestinesi, ci sarà qualcuno che magari in mala fede, magari diabolicamente in mala fede obietterà sì ma una fotografia, uno spezzone cinematografico, ai livelli di oggi non provano più nulla. Purtroppo, oimè, perché la nostra scienza nata dall'esperienza, e anche questo è l'Occidente, ci ha insegnato a diffidare anche di noi stessi. Credo qui al surdo, come diceva Sant'Anselmo d'Aosta e come diceva anche Ezra Pound, noi non crediamo nemmeno all'assurdo, perché non crediamo di per sé stesso a nulla e non abbiamo nulla su cui ci possiamo appoggiare sicuramente per credere. E questo è il livello, è il punto d'arrivo dell'Occidente, non ci illudiamo, perché l'Occidente è una realtà a geometria variabile, cambia continuamente. Ora, in poche parole, perché ho già chiacchierato abbastanza, cercherò un pochino anche di chiarire questo tipo di concetto. Noi siamo figli di una mutabilità continua, diceva Hegel, riprendo il concetto di poco prima e l'ho lasciato un po' da parte, criticando la rivoluzione francese. Libertà, uguaglianza e fratellanza. Lasciamo perdere la fratellanza. Valore sublime, difficile, anche da accogliere e anche da definire. Però ci sono gli altri due valori. La fratellanza è un valore sociale massimo. Se ci sentissimo veramente fratelli, la questione sociale non esisterebbe più. Vi sarebbe una forma di condivisione a ciascuno secondo i suoi bisogni, ciascuno secondo le sue possibilità. Lo so che è una formula socialista, ma è una formula che i socialismi reali non hanno mai saputo realizzare. Quegli utopisti ci hanno nemmeno provato, perché appunto sono utopisti, la formula è restata liberaria. Ma di per sé stesso noi non possiamo dire che non sarebbe possibile. A patto naturalmente di un tipo di metanoia, di un tipo di conversione all'amore assoluto per il prossimo. Amerai il tuo Signore con tutte le tue forze, tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e il prossimo tuo come te stesso. È una parola. Va bene, sì, non lo so. Basterebbe fare questo. È una cosa che ci hanno insegnato al catechismo, quelli di noi che l'hanno fatto, i più vecchi quasi tutti, anche se la regione è una regione rossa come la mia del resto. I più giovani magari molto meno, anche perché, diciamo la verità, il catechismo è diventato molto meno interessante, fatto dai catechisti moderni. Io mi ricordo lezioni di catechismo durante le quali il sacerdote ci spiegava alla luce della scienza moderna, di quello. Lui aveva letto in qualche rivista, niente di speciale, ma ci spiegava come era stato possibile che il Mar Rosso si aprisse in due davanti a Mosè e come questo fenomeno si vedesse ancora in certi momenti di particolare bassa marea del Mar Rosso. Io da un catechista di queste cose, io ragazzino di 7-8 anni ho imparato la faccenda delle grandi basse maree del Mar Rosso che possono dare proprio quell'impressione. Non era mica una cosa da poco. Oggi si parla di sociologia di basso livello quando si parla di queste cose, di scrittura e di lettura della scrittura non si parla più. Continuava Hegel, lasciamo perdere l'uguaglianza, prendiamo la libertà e lasciamo perdere la fratellanza, prendiamo la libertà e l'uguaglianza, ma le libertà e l'uguaglianza non sono affatto valori identici, non sono nemmeno valori complementari. La libertà e l'uguaglianza lasciate a se stesse divergono, vanno in direzione opposta di 180 gradi. Sono due cavalli che aggiogati a un carro spezzano il carro se non c'è l'auriga che li tiene, e l'auriga è il politico appunto, il vero politico che li tiene uniti, e questo è dice Aristotele, è la politica infatti, e li fa andare nelle due direzioni perché un eccesso di libertà uccide l'uguaglianza e un eccesso di uguaglianza uccide la libertà. E la scienza politica o l'arte politica è proprio quella di dosare e lì le soluzioni sono infinite, ma comunque di dosare il rapporto fra l'uguaglianza e la libertà. E sono due valori sociali, e allora diventa chiaro che cos'è l'uomo homini lupus, è quando l'uomo, nei confronti dell'altro uomo, non accetta nessuna regola, non accetta nessuno, non accetta di vedere se stesso rispecchiato nell'altro. Non facciamo discorsi bassamente etologici, lo so benissimo che Hobbes, se Hobbes avesse potuto parlare con Conrad Lorenz, la cosa sarebbe finita. finita in una rissa, perché Conrad Lorenz gli avrebbe detto, guardi buon uomo che i lupi non si comportano affatto così, i lupi sono fra le creature che stanno meglio nel branco, che amano, proteggono. i loro piccoli che hanno un altissimo livello di sociabilità, non sono affatto quella cosa che lei ha imparato perché ha visto qualche volta dei cani, cani e non lupi, quindi non addestrati e magari corrotti dall'uomo, dei cani che si azzannavano con dei bovari canadesi che facevano le scommesse sopra. Il lupo non si comporta così, i lupi non si comportano così, tanto che il lupo, naturalmente quando è solitario, è un animale timido, attacca soltanto quando non ne può più dalla fame. Ecco, questi valori, questo occidente che mangia se stesso alla fine, viene dall'Oriente, lo sappiamo, viene dall'Oriente, allora dov'è il conflitto di civiltà. Arianna, figlia di Minosse, Minosse, fratello di Medea, figlio del sole, un dio. Arianna, nipote di un dio, incontra Feseo, anche lui a sua volta nipote di un dio, perché Egeo, eccetera, eccetera, è tutta roba che Esiodo spiega benissimo. Questo connubio molto tipicamente occidentale, si direbbe, ci hanno ricamato sopra tanti umanisti o tanti illuministi. Teoseo è quello che uccide il Minotauro, è quello che uccide l'animale che è in ciascuno di noi e uccidendo l'animale che è in ciascuno di noi viola il segreto naturale del labirinto e lo traduce in termini di liberazione. Dal labirinto si esce, si esce grazie al filo della ragione dato appunto da Arianna dopo che Teseo gli ha ucciso il fratello ad Arianna. Eh, insomma, c'è sempre un fratricidio alla base delle civiltà, no? Vedasi Caino e Abele in fondo. Arianna e il Minotauro, il Minotauro è un ucciso dalla sorella per interposto eroe che arriva e che, cioè, dopodiché cosa fa? Teseo tradisce Arianna e l'abbandona dopo che deve tutto ad Arianna. Da chi è salvata? Dal Dio che viene dall'India, dal Dio Shiva che diventa l'inventore, l'inventore della bevanda inebriante per eccellenza. Cos'è la bevanda inebriante? È quello che gli Astechi dicevano il sangue e la polpa di Dio. Loro lo dicevano del mescal, ma praticamente è una bevanda allucinogena. E le bevande allucinogene non si assumono per avere degli incubi o per avere dei piaceri erotici subcorticali. Si assumono per vedere gli dèi, per penetrare il mistero dell'universo che non riusciamo a penetrare con la natura. Se voi parlate con un vero grande drogato, no? Con un povero ragazzo di quelli che si bucano per quattro soldi, no? No? E lui vi dice alla fine col suo linguaggio, vi dice sempre questo, si torna in fondo alla stessa grande verità della penetrazione della natura. E allora lotta fra Oriente e Occidente, ma dove si è vista la lotta fra Oriente e Occidente? I troiani contro gli ebrei, scusate, i troiani contro i greci? Chi ci ha detto che i greci erano più occidentali dei troiani, in fondo? Semmai i troiani più che orientali erano nordici rispetto ai greci. Avevano delle forti affinità con gli sciti, con i sarmati, con le culture del Caucaso. Infatti erano migliori, questo ce lo dice anche l'Iliade, migliori fabbri, anche se l'Iliade si svolge in un'età che non è ancora l'età del ferro, è ancora l'età del bronzo, migliori fabbri di quanto non fossero i greci, avevano armi migliori. Infatti l'Iliade dice sempre che alla fine dei duelli, cavallerescamente, i guerrieri si scambiavano le armi e i greci furbi. Li scambiavano con i troiani perché sapevano che le armature dei troiani erano migliori. I troiani, generosamente cavallereschi, lo sapevano anche loro, ma dovevano onorare l'avversario, da cui l'eroe per eccellenza è l'eroe occidentale, che è un traditore, che è un bugiardo, che è un grande navigatore, Ulisse. Schmidt diceva, in fondo il navigare è come il tradurre, e il tradurre è come il tradire. Il navigatore, il traduttore e il traditore passano da una parte all'altra di una sponda oceanica. Hanno la formula che serve per capire due sponde diverse, di una stessa situazione in cui le culture sono separate, ma sono separate da una forma di differenza, di difficoltà linguistica. L'Oriente e l'Occidente sono realtà, diceva geometria variabile. Come nascono? Dove ne andiamo a trovare l'Oriente e l'Occidente? Ogni tanto li troviamo nella Bibbia. Tanto nei Salmi, per esempio, si dice, per dire una cosa che è in nota a tutti, si dice in nota, dall'Oriente fino all'Occidente, ma siamo alle distanze dei punti cardinali o sotto c'è qualche altra cosa? La sura venticinquesima del Corano, la sura a nur, nur in arabo, di la luce. La sura della luce dice, Dio è come una lampada, e la lampada è nutrita da un olio purissimo, e quest'olio purissimo sta nel cavo di una lucerna, che è fatta come una coppa, di cristallo purissimo, e dentro ci brucia quest'olio tratto da un olivo di vino che non è né orientale né occidentale. Al-Shark e al-Garb, cioè letteralmente l'Oriente, al-Shark, da cui viene finalmente la parola saraceno, e al-Garb. Al-Garb, insomma, uno vi dice in arabo ponente o occidente si dice al-Garb, voi dite tanto piacere, ma quando nel Medioevo si parla dell'Occidente africano si dice il paese del garbo, e ancora oggi noi l'Occidente africano lo chiamiamo il Maghreb, che vuol dire appunto il luogo abitato da quelli che stanno a Occidente. E questa valutazione è semplicemente astronomica, è una questione di punti cardinali, o ci sono anche dei valori sottesi all'essere orientale, all'essere occidentale, al vedere il sole che sorge, al vedere il sole che tramonta, ad essere nutriti in un certo modo oppure in un certo altro, perché cambiano le sostanze alimentari e tutto il resto. Che valore ha tutto questo? Noi non lo sappiamo, però possiamo seguire l'iter di queste parole, Oriente e Occidente, che spesso sono complementari e spesso sono contrapposte. Le vediamo dalle civiltà più antiche, siccome l'ora è tarda e voi non avete nessuna voglia di far nottata facendomi numerare, poi la memoria mi tradirebbe, tutte le civiltà antiche, prendiamo dei piloni, dei punti che possiamo ricordare. Per esempio nell'Iliade questa opposizione fra Oriente e Occidente tutto sommato non c'è. Noi l'abbiamo visto occidentale per eccellenza in Ulisse, Ulisse è uno dei grandi eroi dell'Occidente, però il nostro Ulisse è l'Ulisse dell'Odissea, riletto dai Romani, così vi è noto Ulisse eccetera eccetera, da Timio, da Anaos e Tedona Ferentes, riletto da Dante, diciamo pure riletto anche da Joyce. Allora il discorso evidentemente cambia, ma il grande mentitore, se lo cercate nella Divina Commedia, e lo cercate nella Divina Commedia, perché la cultura classica più o meno male, o indirettamente, o a pezzi e bocconi, più o meno la conosciamo tutti, soprattutto noi meno giovani, e c'è l'Ulisse ingannatore, c'è l'Ulisse anche traditore in un certo senso, l'inventore del cavallo di Troia e via discorrendo, ma Dante non lo condanna mica per quello, Dante lo condanna per la sete di sapere che a un certo punto, ecco, l'intuizione straordinaria di quest'uomo è sulla soglia della modernità occidentale, ancora la modernità sta nascendo ma non c'è ancora, e lui capisce uno degli elementi basilari della modernità, e naturalmente lo condanna, che è la sete di sapere oltre ogni possibile limite, cioè la volontà di annullare i limiti, perché dietro al limite ce n'è ancora un altro, e ce n'è ancora un altro, e ce n'è ancora un altro, e quando noi diciamo Dio ha posto dei limiti alla natura, Dio ha messo le colonne d'Ercole sulla sponda dell'Atlantico, ammonendo che non bisogna passare l'Atlantico, Dio ha segnato la terra e ha dato dei limiti all'uomo, e l'uomo ha sempre più o meno rispettato questi limiti, finché alla fine non è che non l'abbia rispettato più, perché gente che voleva andarci oltre c'è sempre stata, ma ha teorizzato il principio che bisogna andare oltre, che il nostro scopo è infrangere i limiti, il plus ultra che era il motto di Carlo V, perché Carlo V era l'imperatore sotto il cui regno non andava mai a dormire il sole, perché lui dominava tutto il mondo, tutto il mondo no, ma insomma dalla Moldava, Praga, fino alle Ande, eh, le coste del Pacifico, insomma c'è una bella differenza latitudinaria, lo poteva anche dire, il suo impero non tramontava mai il sole, e il sole, come sapete, è il simbolo della conoscenza divina, quindi questo mondo sempre illuminato dalla luce di Dio, dove però le cose cambiano man mano che l'astro si sposta in un certo modo, e allora noi apprezziamo questi mutamenti. Eschilo, i persiani, il secondo coro, quando i persiani si chiedono dopo la sconfitta di Salamina, come è stato possibile il più grande esercito del mondo, sia stato battuto da quattro gatti di pecorai, che non sapevano nemmeno andare a cavallo, non combattevano a cavallo, stavano a piedi, appiedati, ostinatamente legati a difendere il loro miserabile campicello, eccetera, tutti in fila, un atteggiamento molto antieroico, opponendo le loro lance messe a 45 gradi alle ondate della cavalleria persiana, e i persiani combattevano con gli archi, erano molto poco difesi, non conoscevano praticamente armi di difesa, gli oplici greci sono quasi esclusivamente, come romani del resto, armati di armi difensive, hanno pochissime e mediocre armi offensive, le lance, il gladio romano, per carità era fatto di ferraccio dolce, infatti quando si scontrava con i germani, gli spezzavano sempre i gladi, perdevano il filo di continuo, bisognava riaffilarli, perché erano prodotti scarsi a livello di scienza, della scienza del fabbro, la scienza del fabbro è stata affinata nel Caucaso e da lì si era diffusa in tutto il mondo, ma però veniva dall'Occidente, dall'Oriente, ancora dall'Oriente venivano le spade dei samurai, le spade con l'acciaio di Damasco, gli occidentali avevano scarsini al riguardo, però avevano un altro tipo di organizzazione civile. i persiani di Eschilo si pongono proprio a questo problema, chi vincerà? Vincerà il contadino che deve difendere la sua terra e ha a disposizione soltanto le sue armi difensive, o invece il grande sterminato impero che può buttare allo sbaraglio migliaia e migliaia di cavalli e di cavalieri, e com'è possibile che questi resistano? E allora la domanda è urgente e bisogna saperla attingendo alla scienza divina. Allora si fa una evocazione di un grande defunto, del re Dario, il fondatore della potenza dei persiani achemenidi, lo fa alla sua stessa figlia, lo chiama dalle ombre, quella cosa che si chiama l'anechia, e gli chiede come è stato possibile che l'impero persiano sia stato battuto dai greci. Noi abbiamo sempre visto in questo il primo elemento di scontro fra Oriente e Occidente, ma il problema è che c'è stato solo lo scontro e quando c'era lo scontro queste due culture, se erano due, se erano soltanto due, non abbiamo parlato di una cultura orientale di un'Occidentale, abbiamo parlato dei greci e dei persiani. E se noi analizziamo la cultura greca e quella persiana vediamo che non c'è tutta questa opposizione. Intanto la lingua greca e la lingua persiana sono due lingue molto affini, sono tutte e due lingue indoeuropee del gruppo Satem, come il russo, come i linguaggi baltici e via discorrendo. Sapete, gli idiomi indoeuropei sono divisi in due grandi gruppi che i filologi chiamano col nome della parola Cento rispettivamente in latino e in russo. Il gruppo del Kentum raccoglie i linguaggi latini e germanici e poi c'è il gruppo del Satem, Satem è appunto Cento e russo, che invece raccoglie gli altri scelti, che sono occidentalissimi, sono i più occidentali di tutti, pensate agli irlandesi, ma hanno un'origine asiatica, i balti, evidentemente gli slavi. C'è già in tutto questo una divisione fra Oriente e Occidente e quasi quasi potrebbe preconizzare quelle attuali. Fa un po' un volo pindarico, si passa da questi discorsi che sono nati da Eschilo a esaminare una battuta buttata un po' lì per la verità da un uomo che è molto filo-occidentale culturalmente come il Presidente Putin che parla col Presidente Xi Jinping e che gli dice beh, l'Occidente ormai si è schierato contro di noi. O, se queste cose le diceva Genghis Khan, ammesso che Genghis Khan potesse parlare d'Oriente e Occidente tranquillamente come se fosse un discorso quotidiano e per lui non lo era, beh, noi non ci meraviglieremmo. Genghis Khan è un rappresentante puro dell'Oriente, anche con la sua forza barbarica, però queste cose le dice un russo che ha una forte cultura legata proprio alla Russia dell'Ottocento che è un ammiratore di Caterina II nobil donna tedesca diventata ortodossa trapiantata come zarina di tutte le russie però ha proseguito il programma occidentalizzatore di Pietro e Pietro il Grande è quello che a un certo punto ha fatto una scelta fra un mondo che era ancora in gran parte vichingo, turco, persiano perché questo era ancora il gran principato di Moscovia nel 600 e ha preso i boiari russi e li ha fatti vestire da nobili uomini tedeschi o francesi e gli ha fatto tagliare la barba per forza e qualche volta insieme alla barba hanno sbagliato un po' e gli hanno tagliato anche qualche testa ma Elisabetta eppure insomma scusate Elisabetta volevo dire Caterina Caterina eppure amava la memoria di Pietro entro certi limiti la sua grande capitale l'ha chiamata San Pietroburgo però l'ha spostata da Mosca perché Mosca è sempre sentita come una capitale troppo orientale troppo asiatica e questo a Caterina dà fastidio Caterina è la grande trasportatrice della Russia in Europa queste cose Putin le sa queste cose Putin le ha dette le ha scritte Putin non è soltanto uno che ha fatto la gente e magari anche la spia in Germania e per farlo bisogna conoscere bene il tedesco Putin era un innamorato della cultura europea Putin era molto pur essendo uno yeltsiniano ai suoi tempi i più anziani mi capiranno i più giovani un po' meno perché parlo di cose di 30 anni fa pur essendo al suo tempo un yeltsiniano perché gli conveniva e in fondo era molto legato a questa visione del detestato Gorbaciov che aveva cercato orrore e raccapriccio di salvare il comunismo ma che nello stesso tempo diceva la Russia e l'Europa hanno una casa comune oh ma questa cosa della casa comune Gorbaciov se l'era levata fuori dai grandi romanzieri russi dell'ottocento che perfino il più slavofilo di loro Dostoevsky lo dice sempre noi russi siamo degli occidentali occidentali nel margine ma degli occidentali siamo europei in quanto siamo occidentali anche se come europei siamo degli euro orientali e questo non è un gioco di parole ma non basta c'è qualche cosa di più di diverso questo discorso sul rapporto fra l'Europa e la Russia le profonde radici comuni che passano naturalmente anche attraverso il cristianesimo questo è evidente e sono una cosa di cui si era accorto prima di Gorbaciov il generale De Gaulle De Gaulle al tempo del grande strappo nei confronti della Nato parla dell'Inghilterra e dice no no bisogna fare l'Unione Europea anche come fatto politico l'Unione Europea attualmente è una grande unione economica tecnologica finanziaria militare ma non è unione politica noi non siamo cittadini europei dal punto di vista politico anche se ciascuno di noi ha il passaporto e nel passaporto c'è scritto Unione Europea ma noi non siamo cittadini europei dal punto di vista politico da altri punti di vista sì questo dispiaceva De Gaulle che era un feroce nazionalista infatti lui diceva sì sì facciamolo all'Unione Europea ma per carità restiamo legati alle nostre patrie noi non siamo gli Stati Uniti d'America dove gli Stati praticamente non esistono nemmeno sono stati fatti con Righello nel Settecento non hanno una tradizione non hanno una storia cosa distingue veramente il Montana dall'Iuta dall'Aidaco e via discorrendo esagerava eh perché se fosse stato più conosciuto ma il miglior conoscitore della storia americana ci sarebbe andato un pochino bastava leggersi Tocqueville quindi non andasse lontano Tocqueville è scritto in francese e per chi avrebbe capito che anche negli Stati Uniti d'America che sono riusciti a creare una nazione queste differenze fra stati ci sono però lui alludeva la grande storia europea e diceva cose molto simili a quelle che dice Cacciari l'Europa è un arcipelago cos'è un arcipelago? un arcipelago è una catena montana che fino a un certo livello delle montagne è sott'acqua le radici profonde sono comuni ma quello che esce di queste montagne sono i culmini delle montagne ma noi le vediamo immerse nel mare le chiamiamo isole e le isole si differenziano moltissimo perché appena uscite dal pelo dell'acqua sono immediatamente soggette a una quantità di cose migrazioni degli uomini impollinazione da parte degli animali o delle specie vegetali un'isola è sempre diversa da un'altra al culmine perché l'isola è appunto il culmine di una montagna che in parte è sommersa le radici sono comuni quando il presidente l'attuale presidente del senato una volta parlò col cardinal Martini le ultime volte ci parlò del resto non credo e avessero colloqui molto comuni molto frequenti il presidente del senato presentò la sua idea di unione europea difendendo anche radici cristiane e quindi pensando di fare cosa gradita al cardinal Martini e disse una cosa condivido anche io insomma l'Europa ha queste comune radici cristiane e il cardinal Martini rispose ma vede onorevole allora non era ancora presidente del senato è vero ma sa io mi riferisco sempre al Vangelo evidentemente il Vangelo dice che l'albero si riconosce i suoi frutti non ha le sue radici ed erano due grandi a modo suo due lezioni storiche interessanti importanti che vanno tenute presenti le radici sono importanti ma è poi la differenziazione dei frutti è altrettanto importante l'Europa l'arcipela d'Europa lo dice sempre Amadillo Cacciari riferendosi a questa immagine e come anche un libro suo apportava questo titolo come si può fare tenendo presente che alle nostre spalle a differenza degli Stati Uniti c'è una storia che non è l'unirsi di vecchie colonie inglesi per liberarsi da una sovranità che è quella inglese comunità di storia comunità di lingua comunità di religione comunità di tutto quello che volete però ormai è diventato oppressivo e noi ci ribelliamo a questa oppressione e lo facciamo tutti insieme anche perché la nostra storia come storia reciproca di vari stati 13 in origine poi sono diventati sempre di più eccetera c'è stata una guerra e secessione e mezzo ma queste le culture nazionali non hanno mai avuto modo di espandersi di radicarsi oltre un certo segno non esiste quella diversità che c'è nel mondo europeo per cui noi possiamo parlare agevolmente di una nazione americana se ci proviamo a dire nazione europea bisogna metterci quantomeno delle virgolette e poi spiegare anche che cosa intendiamo per nazione europea perché in realtà questa idea di identità nazionale riferibile all'Europa noi stessi poi italiani non ci siamo trovati nemmeno tanto d'accordo nemmeno sul processo di nazionalizzazione della stessa Italia ancora oggi ci sono dei forti dubbi sul fatto che l'Italia abbia fatto una buona scelta facendo una scelta unitaria alla francese avrebbe potuto fare una scelta diversa federalistica alla tedesca che era molto più fedele alla storia policentrica dell'Italia perché l'Italia ha una storia policentrica le città le regioni e così via con diversità profonde la Germania nel 70 si è riunita in modo federale senza tradire la sua storia l'Italia ha pensato di andare da un'altra parte perché non aveva davanti al modello pluriculturale del mosaico culturale italiano lei ha preferito la versione Mazziniano-Garibaldina bisogna diventare unici bisogna diventare uni bisogna diventare uniti ma altri parlavano altri linguaggi Cattaneo ne parlava uno diverso Rosmini ne parlava uno diverso l'Italia avrebbe potuto essere una realtà policentrica come la Germania e probabilmente la storia sarebbe stata diversa la storia avrebbe sempre potuto essere diversa ma in tutto questo allora è possibile riconoscere un'unità occidentale contrapposta all'unità orientale vediamo di tirare le somme perché qua si sta facendo tardi beh si può dire questo io ho detto che l'occidente è una realtà ha una geometria variabile quando si parla di occidente e si attacca l'occidente a che cosa? alle guerre fra i greci e i persiani beh insomma diventa facile la Grecia e l'occidente ci abbiamo tutto l'umanismo il rinascimento e l'illuminismo che ci ripete che la storia ci insegna come la nostra cultura è nata all'antica Grecia eccetera quindi è facile ma sono valori reali le crociate l'oriente ancora una volta è l'occidente che cosa li divide? l'occidente che è cristiano e l'oriente che è musulmano sì ma c'è questa divisione nella storia reale effettiva e il cristianesimo e l'islam in realtà sono due religioni orientali tutte e due nessuna delle due è occidentale sono due religioni molto più simili di quanto noi non crediamo o di quanto qualche speaker televisivo ci vorrebbe far credere insomma non parliamo dell'ebraismo perché come sapete parlare dell'ebraismo dopo la Shoah è diventato complicatissimo e quindi è meglio tenerlo sempre nell'implicito però è un implicito che ci pesa addosso di continuo e non bisogna dimenticarlo e anche quello che cos'è Israele che arriva nel vicino oriente ed è una forza occidentale che riplasma la storia del vicino oriente sì ma è un occidente che arriva da una limatura orientale sono i poveri sionisti che scappavano soprattutto dal potere dallo strapotere dello zar e sono quelli che fra l'altro i più vicini a quella vecchia origine sionista sono proprio gli ebrei tipo quelli del naturei Kartà o quelli del rione di Measharim che stanno in Israele ma che di Israele come potenza politica non vogliono sentire parlare che dicono che lo Stato di Israele è una bestemmia alla luce delle verità contenute nella Bibbia e sono dei fondamentalisti ebraici molto simili ai fondamentalisti ebraici che invece pensano tutt'altra cosa e sono diventati il pilone che sostiene questo malfermo coacervo di alleanze intorno a cui sta giocando Netanyahu d'altra parte Netanyahu era assolutamente screditato principalmente perché era un ladro e queste cose le sapevano tutte in Israele e fuori di Israele Hamas ha fatto l'operazione magica l'ha fatto diventare un eroe è sempre così insomma quando uno Stato si sente attaccato una delle cose che fa immediatamente stringersi intorno al capo al capo di quel momento gli italiani l'hanno fatto nel 36 certo Mussolini aveva un credito a cui Netanyahu gli lega nemmeno le scarpe rispetto di qual consenso non sto dando valori sulle due persone sto dicendo Mussolini aveva un consenso solido nel 36 e Netanyahu fino a pochi mesi fa stava per essere buttato fuori appedate però c'aveva una maggioranza in gran parte fatta di centristi spostati a destra guarda caso che dicevano beh beh si manda fuori e poi chi ci resta Rabin ne l'abbiamo ucciso altri rappresentanti della sinistra del centro-sinistra sono personaggi sbiaditi e allora intanto teniamocelo e certamente il 7 ottobre ha dato una bombola d'ossigeno grande come una casa a Netanyahu che cosa se ne deduce applicare la legge del cui protest io che faccio lo storico non lo consiglierei a nessuno che queste cose non si fanno con leggerezza insomma certo bisogna metterlo in campo come bisogna mettere in campo la nostra grossa ignoranza di quello che ci succede addosso del resto non sappiamo nemmeno nulla di sicuro come sapete nella faccenda delle due torri del 9 settembre non sappiamo nulla di sicuro di come è andato veramente l'attentato di Bologna del 1980 ma che sia stato tutto inventato dalla Mambro e dal Fioravanti non ci crediamo nessuno di noi lo crede chi è che sta coprendo volontariamente o involontariamente coscientemente o meno la Mambro e il Fioravanti chi stanno coprendo non lo sappiamo gli abbiamo dati degli ideatori quasi dei mandanti ma i mandanti probabilmente ci sono c'erano ci sono ancora magari sono ancora nella classe dirigente italiana se non al governo non lo sappiamo se non sono morti nel frattempo perché il tempo passa per tutti evidentemente noi siamo immersi in questo tipo di ignoranza e da questa ignoranza emerge ogni tanto la sicurezza della opposizione oriente occidente ora io potrei fare ma l'ora e la notte è tarda il giochino di Bussolotti e dire sì le crociate guardate durante le crociate il nerbo che legava i musulmani con i cristiani non era un nerbo militare era un nerbo commerciale le crociate se le mettete insieme sono nove spedizioni che durano un paio d'anni ciascuno 9 per 2 fa 18 spalmate in due secoli poi c'è state altre che potrebbero definirsi crociate ma prendiamo le crociate classiche quelle che si insegnano e si imparano sui libri 18 anni di guerra guerreggiata in 200 anni e nei nei restanti anni 200 meno 18 ora io non sono bravo in matematica ma penso che sia 182 cosa hanno fatto un sacco di bellissime cose hanno commerciato hanno imparato reciprocamente un sacco di cose noi la nostra astronomia la nostra medicina la nostra matematica l'abbiamo imparata da loro diceva Berna non li hanno fallaci ma i numeri arabi in realtà sono numeri indiani gli arabi sono stati soltanto un tramite e diceva poco a dire un tramite certo che sono stati un tramite siamo tutti tramite però è stato un tramite e ha modificato profondamente il nostro modo di essere la pace alla lunga e prevale sulla guerra la guerra fa più fa più scena però poi noi costruiamo quando siamo in pace fra Oriente e Occidente se noi vogliamo dire che i cristiani sono Oriente Occidente e i musulmani sono Oriente accidenti se non abbiamo imparato e non abbiamo anche poi restituito e lo avevamo imparato perché lì c'è l'elemento che avrebbe dovuto essere sviluppato e non ce l'ho fatta perché ho parlato troppo di altre cose perché a un certo punto questo Oriente e Occidente non regge se diciamo greci contro persiani crociati contro saraceni e poi che altro l'epanto l'epanto è andato di moda da quando qualcuno ha capito che Hamas sono musulmani se si insiste su questo Hamas musulmano si 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 rinverdiscono le glorie passate di una venti trentina anni fa quando si era tutti con qualche eccezione io ero un'eccezione infatti me ne dicevano di tutti i colori si era tutti anti-musulmani e si diceva l'islam nemico della democrazia della modernità del progresso della libertà eccetera eccetera e questo portava un sacco di voti a certi gruppi a certi gruppi politici c'è qualcuno oggi ci ha riprovato che ci sta riprovando e ogni tanto io mi sono divertito insomma se si fa lo storico qualche volta bisogna essere anche un po' maligni mi sono divertito un sacco sentendo parlare di Lepanto perché hanno ricominciato a parlare di Lepanto come trentina e trentina anni fa ah Lepanto voi lo sapete cos'è Lepanto la battaglia di Lepanto 1571 la battaglia di Lepanto è un episodio della guerra cosiddetta guerra di Cipro Cipro era una colonia veneziana i contadini greci ortodossi che dovevano star sotto Venezia ne avevano fin sopra le tasche perché Venezia ne faceva di tutti i colori gli voleva obbligare a cambiare confessione a diventare cattolici gli estorceva un sacco di soldi di tasse e i contadini sapevano benissimo se fossero arrivati i turchi i contadini ortodossi greci i turchi li avrebbero trattati meglio come i cristiani li avrebbero sottoposti semplicemente a una tassazione il cosiddetto karagi che è modesta perché i cristiani sono popolo del libro non possono essere convertiti se non lo vogliono hanno diritto a rispettare il loro essere depositari di una rivelazione imperfetta questo secondo il modo di vedere che i musulmani hanno nei confronti i cristiani quindi i cristiani sotto l'islam ci stanno sono cittadini in serie B però l'essere cittadino in serie B voleva dire fare un passo straordinario rispetto all'essere servo e quasi schiavo come erano i contadini russi sotto scusate i contadini ciprioti sotto i veneziani e allora loro speravano che arrivassero i turchi e i turchi volevano conquistare Cipro perché conquistare Cipro voleva dire cambiare la geografia del Mediterraneo è ovvio la guerra di Cipro dura due anni all'interno di questi due anni ci sono delle battaglie delle vittorie delle sconfitte alla fine Cipro resta ai turchi qualche cosa questo vorrà dire i turchi vincono la guerra di Cipro all'interno di questa guerra perduta dai veneziani e anche dagli spagnoli che si erano alleati con i veneziani anche se non li potevano vedere c'è la vittoria di Le Panto è una è una battaglia vinta all'interno di una guerra perduta io mi chiedo che tipo di apologia c'è da fare se si vuol fare il gioco di bussolotti della cristianità contro l'Islam si può fare il gioco di bussolotti della cristianità contro l'Islam non signore perché sicuramente i veneziani e gli spagnoli sono cattolici e i turchi sono musulmani ma che dire dei francesi che dire del re di Francia che non ne vuol sapere di entrare in questa lotta santa lotta contro l'Islam c'aveva le sue beghe c'aveva gli ugorotti c'aveva la regina che era Caterina dei medici che non ci voleva stare perché non voleva aiutarli gli spagnoli eccetera l'imperatore il saronomano imperatore Massimiliano d'Asburgo il signore di tutta la Germania non dà né un soldo né un soldato a questa battaglia ma era il primo monarca cristiano dell'universo e non dà nulla dall'altra parte chi è contento della vittoria cristiana di Lefanto lo sciaddi Persia perché lo sciaddi Persia è il nemico del sultano di Costantinopoli sono musulmani tutti e due volendo il sultano è un musulmano sunnita e lo sciaddi è un musulmano sciita ma non è questo il problema è geopolitico il primo nemico di chi possiede l'altipiano iraniano è evidentemente quello che possiede la sponda orientale del Mediterraneo e lo sciaddi Persia si mette a scrivere a tutti i potentati cristiani dicendo ora è il momento ora io questi qui li assalgo da Oriente voi li assalite da Occidente e lo schiacciamo e ci sono documenti per questo e sono alla biblioteca celimontiana di fonte all'ospedale militare a Roma dove c'è la grande biblioteca geografica italiana e dove ci sono le carte di un grande viaggiatore romano del 600 che è andato a visitare lo scià che gli ha ripetuto che bisogna fare una crociata europersiana contro i turchi e sono documenti che sono lì sono stati anche in gran parte pubblicati dove è lo scontro di civiltà evidentemente scontro di civiltà cioè quando ci fa comodo semplicemente è una creazione però c'è l'occidente l'occidente esiste e io aggiungerei che non basta di l'occidente un grande storico moderno attuale vivente il giusto Traina che ha insegnato storia romana alla Sorbona ora è tornato in Italia ha scritto un bellissimo libro e recente che è intitolato la prima guerra mondiale della storia ed è la guerra dello scontro lo scontro fra Ottaviano poi diventato Augusto e Cleopatra e Antonio dall'altra parte lo scontro fra i due protagonisti del secondo triunvirato che si erano divisi l'impero e se le erano divisi secondo una sistemazione geografica che poi sarebbe riemersa pari pari alla fine del quinto secolo con l'organizzazione anzi alla fine del quarto con l'organizzazione di Teodosio la divisione dell'impero in una pars orientis e una pars occidentis perché l'impero è diventato troppo grande per poterlo governare con le comunicazioni e con le forze comunicative del tempo e quindi ci voleva questo sdoppiamento di capitali questo sdoppiamento ideato da Teodosio che ha due figli e quindi morendogli lascia a uno l'impero d'Occidente e all'altro l'impero d'Oriente era ripreso sullo sdoppiamento fra Ottaviano e Antonio che erano ancora amici erano un po' fratelli coltelli ma erano tutte e due due segaci di Cesare e alla fine fanno una guerra e questa guerra che cos'è? Questa guerra è la guerra tra l'aristocrazia romana che non si vuole allontanare dai antichi costumi eccetera e una parte del mondo romano che è già strettamente legato al mondo alessandrino al mondo ellenistico e quindi agli imperi extra romani non a caso è legato alla regina d'Egitto che è una greco-egizia ed è legato a una greco-egizia che è una discendente di Alessandro Magno che è quello che ha rovinato l'impero persiano e l'impero egiziano ma poi li ha fatti i suoi e ha fatto una cultura diversa una cultura che è la cultura di Cesare che è una cultura universale una cultura di unione quando Caracalla nel 131 dà la cittadinanza romana a tutti i membri dell'impero a tutti i sudditi dell'impero che diventano cittadini romani crea un discorso di coesione come si direbbe in greco di coenei di dialectos di lingua comune tra l'Oriente e l'Occidente e lo fa coscientemente ma allora in questo caso e in altri casi che ora si potrebbero si potrebbe continuare molto a lungo enumerandoli dove sono effettivamente queste differenze fra Oriente e Occidente si Junger nel novecento scrive a Schmitt poi fa un saggio nel cinquantaquattro erano tutti e due reduci dalle patrie galere perché erano tutti e due stati nazisti o fiancheggiatori del nazismo quando ricominciano a rioccupare un ruolo come era giusto e rioccupassero anche nella cultura loro fanno un carteggio fra loro proprio sul problema Oriente e Occidente e lo fanno nel cinquantaquattro cinquantacinque cioè quando in un momento in cui gli americani si sono inventati la Nato i russi si stanno per inventare il patto di Varsavia e tutti dicono ecco un'altra resurrezione del vecchio conflitto fra Oriente e Occidente sotto mutate spoglie ecco la la geometria variabile e allora questi due reduci non innocenti Schmidt è stato il grande legislatore ed era il grande legislatore sul serio il più grande filosofo del diritto del novecento quello che ha scritto la legge loriberga contro gli ebrei insomma non è esattamente una virginia finella ma anche Junger tutto sommato loro dialogano e questo dialogo naturalmente il solito Cacciari ha fatto in modo che sia stato tradotto in un libretto pubblicato dagli Adelphi che è intitolato il nome di Gordio cioè la cosa che si deve tagliare per risolvere no? che è un libro prezioso sono due saggetti Junger che dice a Schmidt ma insomma cos'è questo Oriente e questo Occidente? io lo so la buon tedesco il nostro romanticismo l'ha capito la grande fiaba tratta da scatuligini da origini persiane cinese arabe che poi è diventata è stata fatta propria dalla tradizione occidentale Boccaccio Schotzer il romanticismo tedesco insomma in pratica l'Occidente è la ragione l'Occidente è la logica l'Occidente è l'aspirazione alla libertà l'Occidente sono le varie carte dei diritti dell'uomo l'Occidente è la solarità della ragione l'Oriente è la ragione in altri modi l'Oriente è il misticismo è la fantasia è quello che gli antropologi chiamano il regime notturno dell'immagine che è una bella che è una bella immagine insomma il regime notturno la luna la notte con tutto il romanticismo ma anche con tutta l'oscurità Schmitt è un giurista non si lascia fregare da queste fantasie letterarie e risponde no guarda parliamo di geopolitica parliamo di forze reali che cos'è storicamente è stato l'Occidente l'Occidente è stato da quando noi occidentali abbiamo rivoluzionato il mondo inventando il modo di navigare sugli oceani perché fino allora non si poteva navigare sugli oceani semplicemente perché non conoscevamo la velatura mobile e quindi quando il vento cambiava e cessava di soffiarti in poppa tu non potevi far nulla potevi restare fermo potevi tornare indietro al porto potevi naufragare ma non c'era verso di naufragare di navigare sugli oceani per navigare sugli oceani bisogna dominare i venti come si fa a dominare i venti? la grande cultura cinese non c'è mai riuscita le grandi giunche l'avete visto i film storici cinesi no? queste grandi giunche circolano che vanno nell'oceano all'assalto del Giappone cosa gli succede? arriva il kamikazè il vento divino kamikazè vuol di questo soffia e le giunche cinesi vanno tutte vanno tutte a fondo perché vanno a fondo le giunche cinesi? perché il vento era forte? no perché le giunche cinesi avevano come vichinghi come i greci come gli egiziani le vele mobili delle lenzuola che si mettevano a pesce era un albero e finché il vento girava andava ti soffiava dietro vento in poppa si andava avanti e se il vento smetteva di soffiare dietro noi fra due ottocento fra due cinquecento abbiamo imparato già per navigare nel Mediterraneo ma ci avevamo già chi cominciava a fare delle esperienze di navigazione atlantica ai genovesi per esempio insieme ai catamani noi abbiamo imparato a fare un sistema di vele che catturano il vento opposto come se fosse una palla da biliardo e lo rimandano con un sistema evidentemente di angolazione geografica ben geometrica ben studiato lo rimandano sull'albero di maestra allora il vento opposto viene catturato dal velaccio chissà di vele di velatura capisce e viene risospinto e diventa vento favorevole vento in poppa naturalmente bisogna bisogna governare le vele bisogna muoverle di continuo noi abbiamo inventato questo agigio che ci ha permesso di dominare i mari poi naturalmente dominando i mari siamo entrati in confronto e in conflitto o comunque in contatto con altre culture come si fa a dire alle altre culture badate voi non lo sapete perché siete un po' ignoranti ma noi ci abbiamo il Cristo noi ci abbiamo avuto Platone ci abbiamo avuto Aristotile ci abbiamo tutte queste belle cose ve le regaliamo anche a voi certo bisogna che voi ci facciate una contro una contro offerta che vi sottomettiate e che magari ci offiate ci offiate sotto costo o magari addirittura gratis tutta la forza lavoro e tutte le materie prime di cui noi abbiamo bisogno perché noi abbiamo capito una cosa che i limiti al genere umano non esistono il genere umano deve andare sempre avanti in fondo alle conquiste non ci sono non c'è un limite ci sono altre conquiste in fondo alle scoperte non c'è un limite ci sono altre scoperte in fondo alle invenzioni non c'è un limite ci sono altre invenzioni l'ha detto Galileo l'ha detto Copernico e non ci sono filosofi cinesi orientali o arabi che hanno detto queste cose ne hanno dette di altre bellissime ma non ci interessano noi siamo questo noi siamo gente pratica siamo dei conquistatori non siamo della gente dell'essere noi non ci quando preghiamo non ci guardiamo l'ombelicco non ci perdiamo a diventare ciechi guardando il sole che sorge noi siamo siamo matematici siamo siamo cultori della moneta e la moneta è una cosa che si può riprodurre si può addirittura creare si può perfino spendere la moneta che ancora non esiste l'hanno fatto per secoli gli usurai ma questa è una delle forze dell'occidente spendere capitali che non ci sono ancora e quindi stare continuamente in bilico continuamente è il rischio della banca rotta ma è il bilico che ci fa andare avanti progresso significa questo significa spostare continuamente il proprio baricentro e quando si invecchia si impara si impara bene sulla nostra pelle cosa significa spostarsi continuamente perché si diventa un po' malfermi nel procedere allora si capisce che il rischio è l'andare avanti però bisogna andare avanti questa è la nostra filosofia ce l'ha insegnato l'umanesimo l'uomo che è in misura di tutte le cose l'uomo che è un divino camaleonte in questo noi divinizziamo la figura del Cristo nel momento in cui ci sentiamo Cristi noi stessi questa è la grande la grande forza dell'occidente è una forza che si muove con l'esperienza ed è la forza che ci insegna a dominare i mari perché noi abbiamo inventato la velatura mobile ma noi abbiamo inventato anche qualche cos'altro quegli stupidelli dei cinesi con la polvere pirica ci fanno i draghi di carta che volano in aria e poi scoppiano e fanno quelle belle scintille giochi artificiali noi la polvere pirica la mettiamo dentro tubi di bronzo che sono oggetti magici perché opportunamente diretti contro qualcuno lo fanno immediatamente cambiare idea al nostro vantaggio e questo si chiama cannone le vele e i cannoni come diceva Eccardo Maria Cipolla queste sono le forze dell'occidente mi dispiace dal mio fascista ma io non riesco a vergognarmene di tutto questo la differenza fra me e qualcun altro che se ne vanta forse potrebbe essere questa che quello che se ne vanta ha una visione puritana del suo vantarsi e dice ma in fondo noi occidentali abbiamo fatto dei miracoli è verissimo abbiamo fatto delle opere di bene a tutto il mondo gli abbiamo insegnato la scienza l'arte la bellezza eccetera eccetera ecco chi fa questo discorso dovrebbe studiare un po' di storia coloniale dovrebbe imparare che il buon re Leopoldo re dei belgi liberale e cattolico faceva tagliare i piedini ai bambini quando perché gli impiegava in miniera alla faccia delle leggi che non c'era ancora contro il lavoro minorile e nelle miniere di diamanti di Leopoldo si camminava a carpone quindi bisognava avere delle buone ginocchia rinforzate magari con dei rinforzi di cuoio dei piedini se ne poteva fare a meno se un bambino scappava dal lavoro servile gli tagliavano i piedini così non scappava più e questo fa parte del colonialismo io non me ne vergogno ma non riesco a pentirmi più di tanto perché so che sono parte di questa forza lo dice molto bene Mephistofele nel Faust di Goethe parla proprio di questo io sono una forza che nega eternamente che vuole eternamente il male e produce eternamente il bene questa è la visione che degli occidenti hanno personaggi come non so il professor Panebianco per esempio l'occidentale hanno fatto tutto il bene del mondo e quindi meritatamente si sono conquistati il mondo e il mondo adesso è diventato col processo di globalizzazione e qui hanno ragione a sua volta è tutto occidentale per cui gli americani perderanno l'egemonia vabbè chi verrà a posto e gli americani lussi lo escluderei i cinesi ma i cinesi cosa sono ci riportano Lao Tse ci riportano Confucio ci costringono a vestire di seta e a bere il tè nelle tazze di porcellana dorate non ci pensano nemmeno ormai sono diventati occidenti occidentali anche loro di un occidentale diverso ecco a Junger che dice sì perché l'occidente è la ragione l'occidente è la libertà l'occidente è la bellezza del corpo umano contraposto all'oriente che è fatto di dei e di mostri all'oriente che è fantastico all'oriente che è notturno Schmitt dice no parliamo terra terra parliamo di un'altra cosa l'occidente è il dominio sul mare e sulla terra quindi l'occidente per eccellenza è l'Inghilterra e oggi come oggi già negli anni 50 si poteva già dire queste cose le hanno scritte quando ormai la Nato e il patto di Varsavia erano contrapposte più o meno come ora mutatis mutandis e questo oriente e questo occidente che confliggono sono portatori evidentemente di valori comuni ma anche anche un po' diversi la diversità Schmitt la spiega in termini molto geopoliti i sci sarebbero piaciuti infatti piacciono molto a Caracciolo a questo quello di Limes dicono l'Oriente è la massa continentale l'Oriente è la massa continentale che offre una resistenza alla dinamicità dell'Occidente che essendo massa continentale e massa oceanica invade sempre da tutte le parti l'Oriente e lo costringe a difendersi che tutto sommato tradotto in termini molto più raffinati di come lo dico io ma io ho fretta di concludere ma nella sostanza abbastanza grossolanea che quello è quello che dice il filosofo di Putin dice il professor Dugin praticamente l'alterità di Oriente e Occidente che costringe l'Oriente sempre a difendersi e l'Occidente ad attaccare continuamente costruendosi la Vergine di colui che deve difendere la sua libertà di colui che quando si muove non si muove mai per conquistare si muove sempre per ristabilire la giustizia per ristabilire l'ordine per ristabilire la pace sono potenze evidentemente e modi di ragionare opposti che in certi momenti risalgono così alla superficie da illuderci perché è un'illusione che siano le forze che muovono la storia non sono le forze che muovono la storia però in questo momento particolare noi stiamo vivendo un nuovo contrasto fra un Oriente e un Occidente ancora a geovetia variabile perché che cos'è diventato l'Occidente coincide con l'Europa fino a un certo punto forse l'Occidente oggi coincide principalmente con i protagonisti della grande politica mondiale degli Stati Uniti d'America ancora oggi lo sono e l'anglosfera che segue in tutto e per tutto gli Stati Uniti d'America e il resto dell'Europa forse con una mezza eccezione rappresentata dalla signora Meloni il resto dell'Europa non è tanto convinto il mondo francese il mondo tedesco il mondo spagnolo non parliamo anche degli Slavi gli Slavi si sono un po' compattati per l'antica paura che hanno dell'orso russo però fino a un certo punto perché poi gli Ungheresi si sono già defilati voi direte sì ma gli Ungheresi sono forse orientali ma non sono Slavi è vero ma si stanno defilando anche gli Slovacchi gli Sloveni i Croati stanno avendo dei dubbi gli Estoni e i Lettoni insomma questo occidente che sembrava aver invaso quasi l'Oriente c'è poco da fare questo è un dato obiettivo nel 91 Bush promette a Gorbachev che la linea di difesa della Nato resterà più o meno invariata secondo la vecchia linea della cortina di ferro e che la Nato non proverà a espandere perché il confine della Nato è un confine armato è armato di ordigni nucleari non proverà a andare troppo ad Oriente ci saranno degli aggiustamenti ma niente di più non c'è un trattato su questo ci sono delle testimonianze su colloqui avvenuti dopodiché però è un dato di fatto che in una trentina d'anni la linea della Nato è arrivata fino alla Georgia nel 2008 e adesso fino all'Ucraina e se voi avete presente da dove passava la vecchia cortina di ferro che tagliava in due la Germania accidenti se non ha fatto progressi una delle due parti e non è la Russia da dove il professor Panebianco si sia tirato fuori l'ipotesi che a lasciarlo fare Putin arriverebbe tranquillamente fino a Berlino o fino a Londra io non riesco francamente ad afferrarlo perché io mi occupo un pochino di storia militare e facendo un po' di conti mi rendo conto che le navi gli aerei i carri armati la potenza umana l'eserciti in grado di arrivare dalla Russia fino a Londra o a Berlino o ad Amsterdam non ci sono Putin non ce li ha queste non ce le ha queste fantasie non è arrivato nemmeno non è arrivato nemmeno sul serio a Kiev questo non se l'aspettava qui c'è una valutazione errata sua ma certamente lui sapeva benissimo che più di tanto non si poteva muovere non dimentichiamo che Putin a pratica di mare nel 2002 aveva proposto l'ingresso nella Nato della Russia che quanto a filo occidentale si arrivava fino a lì poi si corregse e disse proprio ingresso no ma un patto di alleanza e di collaborazione fra la Nato e la Russia è necessario nel 2007 lui questo patto lo dichiara impossibile perché dichiara no voi state facendo una continua avanzata sotto forma di avanzata dei vostri mercati e delle vostre pretese di organizzazione politica la democrazia occidentale l'area del dollaro eccetera voi mi state vi state mangiando tutta l'Europa io non ci sto più questo lo dice Putin nel discorso del febbraio 2007 andarselo a rileggere se volete perché lo trovate anche online puntualmente nel 2008 cominciano le rivoluzioni arancioni più chiaro di così e allora c'è un aggressore e un aggredito accidenti se c'è un aggressore e un aggredito forse un pochino diverso da come ce l'hanno proposto nell'ala vincente dei mas media per così dire questa è la lotta dell'Oriente contro l'Occidente no non è nemmeno la contrapposizione fra Oriente e Occidente diciamo che l'Oriente e l'Occidente nel frattempo hanno hanno cambiato pelle hanno cambiato hanno cambiato casacca però nello stesso tempo continuano a essere valori perché sono valori che noi ci portiamo dentro e che noi siamo abituati a rivestire periodicamente esattamente come facciamo un pochino con il nostro guardaroba quando decidiamo magari di rinnovarlo o di rimetterlo o di rimetterlo in servizio perché magari si è fatto un po' una cura dimagrante siamo riusciti a rientrare in abiti che non ci servivano più da 5 o da 10 anni ecco quindi realtà a estensione variabile non valori statici e nemmeno valori che rispondono in tutto a cose concrete però il fatto è che i nostri parametri mentali non sono sempre necessariamente dominati soltanto dalla concretezza ci sono anche altri valori di cui bisogna tener conto però questo sarebbe un altro discorso quindi arrivate a questo punto forse per vostra perché mi fate un po' pena forse è meglio se smettere bene grazie a Franco Cardini per questa lezione rispettiva